Il governo va avanti e tra l'altro l'azione del governo non può seguire il calendario elettorale perché noi dobbiamo seguire il calendario che è stato negoziato con la Commissione europea per il PNRR ma anche per le raccomandazioni che sono state date dalla Commissione all'Italia. Quindi questo è il calendario di riforme che il governo si propone di seguire. Sulla questione di se c'è sostanza questa affermazione, cioè se ci sia una patrimoniale, la risposta è no, non c'è una patrimoniale. Ma prima di arrivare a questo vorrei dire due o tre cose. Perché fare questa verifica dei valori?